Tommaso ed Enrico vogliono aprire un e-commerce. Tommaso decide di consultare una società esperta, per non sbagliare. Enrico decide di fare da sé, tanto su internet si trova tutto. Tommaso approfondisce l'argomento con i consulenti esperti di C24 e studia le guide e le procedure che C24 crea per i propri clienti. Enrico decide di documentarsi chiedendo ad amici e seguendo un paio di tutorial online. Tommaso, al fianco di C24, lavora per creare una linea marketing, per capire cosa si fa e cosa non si fa in digitale. Enrico, nel frattempo, continua a cercare l'ispirazione. Il suo e-commerce sta funzionando bene. Tommaso ha conquistato il suo primo traguardo di business. Enrico, anche C24, digital business experience.